Siamo qua con Giovanni Pedrinazzi perché a breve arriverà una famiglia proprio dall'Ucraina, proprio da Kiev se non ero, giusto Giovanni? Sì, sì, abitavano a Kiev, loro sono originari di Cremona, si erano trasferiti prima in una città di intorno di Kiev, poi direttamente a Kiev poco tempo fa, con tutta la loro famiglia, fanno parte del cammino neocatecumenale e sono andati in questa zona ormai scristianizzata dell'Europa dove praticamente la fede non esiste, con un altro gruppo di famiglie per testimoniare il Vangelo alle persone più bisognose di questa zona. La situazione loro dicevano che era critica già da prima, cioè non da qualche giorno. Loro sono due anni che dicono che la situazione in Ucraina è difficoltosa, loro non hanno mai percepito qualcosa di differente rispetto a quella che era la vita degli ultimi anni, poi hanno dormito negli ultimi tempi con le valigie già pronte in macchina e col pieno di benzina del loro pulmino e appena hanno visto le prime bombe cadere a Kiev, ieri mattina hanno caricato tutto, armi e bagaglie, bambini e sono partiti. Cosa ti hanno raccontato di quelle poche ore che sono stati lì mentre è scoppiata poi la Reale Guerra? Ci hanno detto non telefonateci, guardate il nostro stato di Whatsapp o qualche messaggio, hanno messo il doppio del tempo per arrivare a Leopoli e poi soprattutto gli ultimi passaggi prima di arrivare alla frontiera ci hanno detto che sono stati di code, code interminabili. Ho visto qualche foto, veramente sono code interminabili di persone che attraversano la frontiera. Lei si chiama Elisa, lui si chiama Federico, Elisa è incinta dall'ultimo di un altro bambino di decimo figlio per cui credo che si sia davvero messo una mano al cuore e abbiano tutelato anche i propri figli e ha deciso di ritornare in Italia. Quindi a breve li aspettiamo a Cremona? A breve li aspettiamo a Cremona, anche un po' trepidanti di poterli vedere ed ascoltare direttamente dalla loro voce quella che è la loro percezione della realtà che sicuramente noi non ci immaginiamo minimamente.